Grande successo per i ragazzi del 2 Ranucci Ciampa, i campionati italiani di Rimini, gli Irpini hanno fatto nuovamente il pieno di medaglie, Raffaele Pavone ha conquistato un oro nei 90 kg dopo aver superato due avversari di grosso spessore con l'ennesima prova dai grandi contenuti tecnici, un successo arrivato anche a grosso sacrificio e a notevole impegno soprattutto negli allenamenti di questo giovanissimo campione e il suo quarto oro in assoluto, un risultato straordinario se si considera che ha vinto sempre raggiungendo il podio più alto, argento per Rocco Grella nei meno 55 kg, altro risultato da non sottovalutare, bronzo invece per Mario Preziosi nella categoria veterani e per Luca Erra, la kickboxing Avellino ha dimostrato ancora una volta di essere tra le migliori realtà del nostro territorio, risultati quelli ottenuti che fanno ben sperare per il futuro al duo Ciampa-Ranucci. Grazie. Grazie a tutti.